Ma quanto risulta dalle cose che ho sentito sia dall'ambasciata sia dagli investigatori italiani che stanno cominciando a lavorare con le autorità egiziane, siamo lontani dal dire che questi arresti abbiano risolto, chiarito. Credo che bisognerà lavorare e che bisogna assolutamente che questo lavoro possa essere fatto insieme. Il lavoro sta cominciando in questo momento e in questo momento si stanno anche imbarcando i familiari e la salma di Giulio Reggemi che faranno scalo a Roma e poi andranno a Trieste.